Siamo già notta! Alla chitarra! E al campo, la voce griglia del Salento, da Caimera, Giovanni Palma! Fatici sapere, da dove ci guardate, tra poco si balla ancora. Un momento di questa serata che vi dare qui, per la montagna reale, per questa rassegna, così che teatro, sotto le stelle. Fatici sapere, da dove ci state guardando, noi vi auguriamo una buonanotte così. Signori e signore! Alla voce! Signorine e signorini! Tutti! Eh! Se la fa buona! Che ti fai? Signore! Signori, signorini e signorini! Ah! Cos'è che bello! Da Putrofiano, alla voce e al tamburello, Antonio Melegari! Camafei! Loro mi iscrivono perché dici che non faccio molta promozione e pubblicità per i social. Quindi, Camafei si iscrive con la K. Camafei! Se volete trovare e cercare sui social, seguite i nostri appuntamenti. Se volete farvi qualche... Di loro sono i due anni, siamo più vicino a Santa Teresa di Riva. Quindi, stiamo curando una buonanotte per la... Noi ci sono un'esame di santa. Noi ci sono un'esame di santa. Noi ci sono un'esame di santa. E siamo insieme al nostro fratello Mario Incudine, facciamo un progetto insieme. Alla lanccia! Chiamato Salentrina. Il Salento... Dove il Salento si mescola con la Sicilia. La Sicilia si mescola con il Salento. Noi ci vuole un'ora in mezzo, trovate le foglie. Calimita! 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 Ci potete sentire queste voci? Aspettate, aspettate, scusate, no, lo signore voglio via avanti, questa è una maglietta bianca, vieni qua vicino, vieni qua, su 500 persone sei l'unico che sta a voi fuori tempo, spiegami come fai, ok e stai qua vicino, forse la senti la gas, aspetta la distanza era stai qua vicino la signorina accompagnano Grazie a tutti Grazie a tutti